Oggi Aldo racconta 23 novembre 2021, guardate l'oscurità, i paesi che ho di fronte, ma quello che mi è capitato oggi, quello se non avevo quella mia piccola bombola che si accende col fuoco, eccola qua, che ve la faccio vedere, ve la faccio vedere bene ragazzi, ascoltatori di YouTube, se io non avevo quella piccola bombola che porto sempre con me per fare il cibo caldo, sono stato salito da un gruppo di animali selvatici, bene non ho capito quali fossero, bene non ho capito, però se non avevo da accendere il fuoco, ecco che ve lo faccio vedere proprio da vicino, se non ci credete, rimanevano lì, poi ho acceso il fuoco con un accendino e sono scappati, erano più di sei, forse otto cinghiali, ebbene sono adesso qua tranquillo sotto vicino a questa chiesa del paese comune d'Orio, sopra il lago di Como, sottostante ho la parte illuminata che rispecchia in sé le luci del paese di fronte a me nell'acqua, luci allungate che determinano uno schizzo si può dire coloristico ancora notturno nell'acqua, nella parte lacustra del lago di Como, ebbene sono stato preso dalla paura si può dire, da questi animali selvatici, se non avevo ciò, mentre stavo facendo cibo per riscaldare, magari erano talmente affamati che non sapevo la loro reazione, importante scrivetemi nel commento YouTube come faccio a difendermi dalla montagna dei cinghiali, e questo è l'importante, saper difendersi, io sono un viandante, sono venuto a Pisi dalla chiesina di San Rocco per la chiesina di San Giorgio, ho incontrato nella parte notturno una massa di questi animali che venivano incontro, al momento non sapevo come reagire, è stato un impulso oggi veramente più forte di me, inarrendibile, inesplodabile, una forza che ho avuto di accendere il fuoco, sapendo dall'età primitiva come facevano a difendersi gli uomini primitivi. Oh, niente, è successo, 17.30, sono qui alla chiesina di Dorio, tra poco mi incammino verso la discesa, verso la stazione di Dorio. Oggi è un'esperienza, si può dire, da uomo preistorico, ma l'importante è che ho saputo vissuto e sono ancora in questa vita, e non sono stato morso da questi cinghiali. Ebbene, tutto bene, Aldo vi saluta, datemi dei consigli, Aldo!